o hype ti prego guarda questo video non te ne pentirai forte forte panetti e mancaga e mancaga che testa di cazzo questo ok sono ipato simo lei mi ha visto non è il momento allora ok che fate aspetta che hai messo a guarda un video entra un attimo tanto salutate greg stelle ciao bastardi spandignomi chat se te lo faccio rivedere da capo pure a te ci stai del mio cuore c'ho detto che si mette meditato di cristo con con i frame del volto il ritaglio delle mani bravo your name lei mi ha visto non è il momento tutto ubriaco a surreale ma reale e silent voice e dai su alzati c'è voglio mangiare le tue perché è bellino scrivete lo consiglierei curocono basket succhia mercato è già visto l'attacco dei giganti o bellissimo potrà dittelo ecco molto interessante bene molto mi piace perché manca la velocissima bagola fa come aspetta non accadrà più io e vai sono per te cos'è questa è un simbolo guarda 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 è molto romantico che vuoi da me sei tranquillo vai a fare in culo che mi dici di greg un click l'hai completamente perso questo è un po il concetto diciamo no non è vero non è vero però sarai così intelligente da dire ok vedremo insieme se non che your name per un mese 70 ore di visione sessanta facciamoci imprescindibile il filo rosso che bello il filo il nastro il filo rosso è il destino che riunisce no questo nastro finisce dei protagonisti che immagino del giardo a sentite anch'io decisione quando è questa volta la risposta ok vogliamo parlare così voglia avanzarci la voce poi guerra poi guerra e guardate allora ti consiglio che ormai se non l'hai visto tremendo fa schifo al cap non c'ho non c'ho parole è davvero un peccato non ci credo hai fatto l'addio ti sei mai fatto che risciano i baffi ma fra ma questo questo si è scavato un botto di clip un botto di vod per prendere le conversazioni perfette mettere c'è non hanno difetto se con questa conversazione non ha difetto buonasera e buon natale buon natale a tutti io e i miei amici vabbè farite è bello mi piace super avete 25 euro da prestarmi e per il treno vabbè così è c'è il meme è finito finisce il continuo all'infinito pop se il babbo natale stai consegnando i regali inviapato raga comunque c'è un serio applauso a sto cazzo di pietro fa sempre delle bombe colossali sempre delle bombe delle valanghe proprio guarda c'è sta storia di Diego tutto sciolto col bombè in mano lussorio io con la perona in mano ovviamente il dettaglio della barba prende tutto più disgustoso e ci abbiamo caro babbo natale voglio droga tanta caro babbo natale mi presti 5 euro caro babbo natale voglio la pace nel mondo e una beretta bellissimo bellissimo pietro pietrone cascavilla ragazzi seguitelo su instagram stasera si torna al collagio mmm petolicchio ma to che donnona mmm piccolina ah 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 ma